Allora io sono Marcus Crone e signore e signori bentornati in Another Brick in the Mall Signore e signori oggi non c'è Shifty, io parlo in bassa voce perché è notte fonda e ragazzotti sono contento che ancora questa serie vada bene e che hai lasciato un sacco di like perché è molto carino e mi piace molto, devo dire, forse perché è molto semplice Prison Architect è un po' più difficile, ci stanno un sacco di cose a cui pensare e quindi posso capire che magari uno c'è tipo, vedi quella roba e fa io no, mio Dio, però invece questo qui è carino, cioè arriva la gente, compra le cose poi è simpatico, anche Prison Architect è simpatico guardate qua, abbiamo le appliance, come cazzo si chiamano queste? Applance Supply, Washing Machine, Dish Machine, ma avete detto che la Dime Machine è l'asciugatrice io non conoscevo l'esistenza di questa cosa e il frigo, quindi signore e signori io direi di chiamare il nostro schiavo uè, bull there, vieni un attimo al lavoro e andiamo a mettere, non questi, ma mi avete detto che... ah, un ragazzo mi ha detto, per il bullying metti i tavoli io ho messo i tavoli, però non ho visto che sto miglioramento, se devo essere sincero ho allargato il magazzino perché ne la faceva più e quindi signore e signori andiamo a mettere, credo siano questi yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ma sì ma non badiamo a spese, vediamo il nostro builder se arriva oppure no builder, builderino, ah il nostro builder sta facendo questo quindi a questo punto io assumerei altri builder, mi conviene molto di più licenziarli e poi farli venire, piuttosto che ecco, tipo tenerli tutti i giorni sta con traffic, eccoli qua, adesso dovrebbero arrivare a dare una mano a ciccio vai, vai ragazzi, andate, perfetto, qui voi siete completamente scordato molto bene, grandi che vanno a fare queste cosine qui allora, washing machine, dish machine, washer, drying machine e frigorifero signore e signori, vediamo un po' cosa accade se riusciamo ad aumentare gli introidi che non sono male, sono sempre intorno ai 29.000, 28.000 e io direi, visto che siamo sozifragici, di aggiungere due file perché immagino ce ne sia soltanto uno, se qualcuno mi compra una lavatrice io sarei davvero molto contento andiamo a vedere il manage store, eccolo qua, 11.000 di profitto daglie regà, daglie, vediamo un po' se la gente dà un'occhiata ai nostri ciccipuzzi a questi qui, uh, 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 bello, ok, sì, guarda, 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 uh, hanno preso la lavatrice no, non hanno preso la lavatrice, hanno preso questo, che è, uh, il frigo ebbene, il frigo cazzo costa ragazzi, è importante, il frigo, quanto minchia, minchia, così tanto di margine, wow, buono io c'ho sempre 12 stronzi che se ne vanno perché qui le casse sono piene a merda devo fare qualcosa, devo probabilmente spostare dei prodotti da qualche parte e questo qui diventerà soltanto un mini market del libro, non lo so magari faccio il negozio di vestiti, eh, il negozio di vestiti così togliamo questi, le scarpe e queste qui, quindi sono 3, 2, no, ci stanno pure le gravatte, che sono queste, sono le camicie, uh, 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 3, 6, 3, 9 e magari liberiamo un po' di spazio e la gente viene un po' di meno di qui e un po' di là allora, oggi voglio fare, signore e signori, il cinema, esatto quindi mettiamo lento, lento, andiamo a chiamare i nostri amici Builder diciamo, eeeh, 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 venite qua dove andate e vediamo un po' se il cinema ha qualche caratteristica particolare perché secondo me è soltanto... innanzitutto dove lo metto? lo metto qui o lo metto qui su questa strada principale? certo che è brutta sta roba, ho fatto davvero una cosa schifosa eeeh, mettiamolo... mettiamo... allora, le casse funzionano per così ok, quindi devo fare una cosa del genere? non lo so ragazzotti, vieni, non lo so... vabbè, ma sti cazzi, ma ci abbiamo un sacco di soldi che costa 50.000, ma chi se ne frega andiamo a costruirlo, andiamo dove stanno i miei Builder? Builder andiamo, 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 Builder soltanto due, only one che due dove sono finiti i miei Builder? building, building e building vabbè, prendiamo un'altra, ma chi se ne frega vieni subito, lavora, sciacolo dunque, andiamo a vedere gli oggetti abbiamo bisogno di l'order counter yes, eccolo qui poi... management movie projector e poi spectator seed penso che ci vorrà un muro da qualche parte perché c'è, nel senso, se faccio... forse questo va qua beh, non ne ho davvero davvero idea adesso vediamo uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici perfetto quindi, uno, due, tre, quattro, cinque eccolo qua tac e poi ci mettiamo questi giusto? beh non ne ho idea è per la prima volta che faccio il cinema quindi ragazzi io magari questo qui va a me però questo è il cinema, così è fatto il cinema cioè, mi sbaglio? dico una cosa inesatta? il cinema di solito è fatto così poi io se ci stiamo sbagliando non ne ho idea facciamo chi aveva di nuovo i nostri schiavi che questi qui non lavorano praticamente lavorano tutto il giorno tornano a casa da non baciamogli e poi fanno oh no, devo ritornare a casa e andiamo a fare tutto, 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 tutto dei... ma rallentiamo un pochino qui non so se va separato ecco, questa è un'ottima domanda intanto facciamo una porta ok una staff door ma in realtà ci serve? non lo so facciamo così magari, ok e poi io direi di fare dei muri qui yes e metterci le doppie porte oh io sto facendo quello no 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 aspetta 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 mi piace farlo qui sto facendo quello che credo sia la cosa migliore per un cacchio di cinema ma io non ne ho idea oppela doppia porta oppela doppia porta oh è simmetrico per una volta è simmetrico non mi potete dire niente davvero eh andiamo a fare assegna bullying no no ma che cazzo dici cinema yes unlook movie come faccio ad assegnare ah movie theater eccolo qui allora è rosso issue selection right click si qual è il problema pronto ah ticket lobby c'è qualche cosa che non va o è rosso e basta beh forse forse va bene lo stesso allora ticket lobby prendiamo un cassiere questo è buono ha poca pazienza ma è buono lo facciamo venire alle 17 il nostro ciccio apre alle 17 ma che cazzo è che va al cinema alle 9 del mattino e chiude alle 29 ok oddio che è successo 11 se ne sono andati e 4 stanno cercando uh il negozio di elettronica che erano vieni le cose merda uh 36.000 ragazzi 36.000 bello 15.000 questi qui hanno aumentato non di poco eh non di poco ok signore e signori direi che c'è c'è sembra fatto tutto quanto ti va bene si il rosso è soltanto una cosa per dire hey no si ticket lobby funziona ok oh speriamo bene eccoci qui in un nuovo giorno danaroso yeah sono le 14.45 e dovrebbero essere venuti a costruire mmm forse qui un ciccio non ce la fa sapete ho paura che in elettronica serva un altro stock clarko e lo facciamo venire in quest'ora di punta adesso non c'è viene fra 20 ore noi invece lo facciamo venire con il nostro metodo zozzerellone uh il cinema è aperto vediamo un po' no c'è qualcosa che non va nel cinema c'è qualcosa che non va in teddy ora movie theater yes si qual è il tuo il tuo problema movie theater dov'è ok movie theater yes non ti piace eppure sembra 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 di sì cioè nel senso se vado a fare management movie theater vedi ah cazzo gli dovevo assegnare la lobby merda ok adesso tecnicamente dovrebbe funzionare qui le file sono piene no perché perché non si distribuiscono sti deficienti su dai dai distribuisce no vabbè non c'è uh sì sì bello è iniziato il film ma la gente entra così a buffo signori ce l'abbiamo ce l'abbiamo guardalo 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 oppela quanto quanto rende zero aspettiamo che arrivi mezzanotte per decidere se effettivamente però il fatto che il magazzino chiuda alle 24 inizia a non rendermi più io può darsi che lo voglia aperto tutta la notte vediamo un po' quant'è la resa ah 150 dollari ah un netto di 32 che 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 verda signore e signori però abbiamo il cinema abbiamo come cazzo si chiamano questi gli elettorio domestici e presto prestissimo faremo i tool e quindi non lo so tipo la motosega il trapano sapete i megastore quelli americani dai e regà come andiamo ottimo lavoro ora lo faccio lo faccio lo faccio lo faccio lo faccio ma si fermi tutti fermi tutti perché adesso succede il megacasino andiamo su super e gli diciamo che è sempre aperto ok adesso succederà il megacasino poi prendiamo i nostri amici il problema dei nostri amici fermati 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 ora che ci penso è che se io adesso gli dico non venire cioè viene a mezzanotte lui viene a mezzanotte il giorno dopo merda come faccio a che ora aprivo alle nove aprivo alle nove allora prendiamo dei cassieri ok questo fa schifo fa davvero schifo e li facciamo venire a mezzanotte tanto penso soltanto due bastino avanzano i clerk non ci servono ok andiamo a prendere il fast food il fast food apre a mezzanotte cioè apre è orario continuato quindi prendiamo una cassiera schifosa e un no questo qui non credo che ci serva un cuoco yes mezzanotte e mezzanotte perfetto poi 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 bowling alley ci serve soltanto un cassiere oppela facciamola fare ecco 029 024 quindi alle nove del mattina del mattino e lei invece alle 4 non so se ma non credo che ci sia mai fila quindi ragazzi chi se ne frega oppela ok ce n'è sempre uno aspetta un attimo perché benvenuto un attimo dubbio food restaurant 1 alle 8 1 alle 10 e 1 a mezzanotte ecco no non va affatto bene 1 a mezzanotte 1 alle 10 no 1 alle 9 e 1 alle 17 non lo so perché 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 ce n'è sempre no non c'è ah perché ce n'è di più ce n'è di più fermi tutti allora stai calmo tu mezzanotte ok questo qui era a mezzanotte questo alle 9 giusto no ok 8 questo qui alle 16 e questo qui lo licenziamo oppela ok sempre uno perfetto adesso non vorrei toccare il mio fiore all'occhiello ma lo devo fare lo devo fare attenzione siamo velotti siamo caldi prendiamo questo cassiere lo mettiamo a mezzanotte questo qui alle 8 questo qui alle non lo so perché 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 fai così perché ti comporti in questa maniera ah perché qui ne devo mettere 2 è vero allora facciamo 2 a mezzanotte 2 alle 8 ma questo è uno stock clark e quindi non ci interessa questo qui arriva arriva alle 8 no mi serve oh sto grafico se capisce il cazzo ragazzi io non volevo dire però se capisce davvero è una merda incredibile atomica però così ce n'è sempre uno non è possibile scusa come fai se ce n'è sempre uno un cassiere e due cassieri poi tre cassieri due due non lo so forse me ne serve un altro forse me ne serve un altro bim lo mettiamo nell'ora di punta che è questa oh regà o la va o la spacca tanto ci abbiamo soldi chi è questo no stanno rubando no ragazzi stanno rubando forse lo devo fare alle 8 del battito questo piccolo guarda rubano ladri no ah però non posso non comprano non comprano infatti non sono soddisfatti state calmi ragazzi come fate ad essere soddisfatti non c'è nessuno no dove sono dove sono le persone non state prendendo ho paura ho paura ragazzi no non è ok ok è partita sono partiti gli acquisti sembra funzionare che paura che paura il ma non ho messo in mezzanotte questo qui bullying ok magazzino buco degli schiavi eccolo qua apri sempre dai prendiamo un casciere lo facciamo venire domani è mezzanotte lei attacca le 16 e invece no la facciamo attaccare ecco qui alle 8 e poi ce ne mettiamo un'altra che continua il servizio daie daie regà vediamo un po' oh merda secchissima cazzo quanta gente è qui cazzo quanta gente è qua no 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 mi serve un altro tizio mi serve un altro tizio per forza ok lo facciamo venire adesso no lo facciamo venire adesso e poi domani lo facciamo venire a questo orario qua ok ti prego arriva sbrigati ok vediamo se si sparpagliano speriamo che non si incazzi nessuno uh ricchi affari guarda bello finalmente fino a oh cazzo che è successo ok niente no 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 va bene il movie theater sta producendo qui adesso quella folla se n'è andata grazie al cielo cos'è successo no 15 persone se ne sono andate merdissima super merda ok sembra reggere botta e vediamo se al cinema sono le 20 mi sembra un buon orario per andare al cinema cazzo quanta gente cazzo quanta gente no perché ve ne andate no se ne vanno perché qui la tizia se n'era andata merda devo aggiustarle un pochettino ragazzi il bullying va alla grande il bullying va davvero alla grande e qui alle 24 tutti questi non servono davvero non servono il cibo però va eh il negozio di elettronica questi lavorano bravi che bravi regà e il bullying invece c'è soltanto uno stronzo che all'una gioca da sola ma molto bene ma molto bene vediamo un po' i profitti 18.000 oh stiamo in positivo finalmente oh positivo positivo di poco e 18.000 anche qua si direi abbiamo fatto 35.000 più o meno io sono molto soddisfatto abbiamo fatto il 24 ore e vi sallustro purtroppo purtroppo vi dico che parto per la Svezia anzi oggi già sarei in partenza quindi ragazzotti belli non uscirà il mall e il prison break sì prison architect né sabato né domenica tornerà lunedì quindi lasciate un pollice in su io sono il vostro Mchiappola bella per voi ciao